Attività criminali in fermento, instabilità in alcune aree della Capitanata, una montagna di soldi derivanti dallo spaccio di sostanze stupefacenti o dal racket delle estorsioni ed un esercito di giovani leve, è questo il quadro che emerge dalla relazione al Parlamento sui risultati della Direzione Investigativa Antimafia sul primo semestre del 2017. Affoggio allo scontro tra i clan sinesi Francavilla e Moretti-Pellegrino-Lanza potrebbe avere ripercussioni su tutto il territorio provinciale, anche perché il gruppo sinesi Francavilla, si legge nella relazione della DIA, starebbe affrontando un periodo di estrema difficoltà. Difficoltà accentuata anche dal mancato appoggio degli alleati storici che contribuisce di contro a rafforzare i rivali dei Moretti-Pellegrino-Lanza sugli affari di droga, estorsione e mattone. Anche il Gargano, segnato dal dubbice omicidio di San Marco e Lami, si è considerata zona instabile perché a contendersi la scena sono gruppi criminali basati su vincoli familiari e non legati tra loro e dove le giovani leve cercano di colmare i buchi lasciati dagli esponenti storici. Un contesto questo che non gioverebbe alla famiglia dei Notarangelo, si legge nella relazione. Nel tavoliere invece, precisamente su Sansevero, si assiste ad una organizzazione verticale con gruppi che progressivamente si affermano su altri per il controllo della città, che si conferma a crocevia per l'acquisto di armi e droga per tutta la zona dell'Alto Tavoliere. Alla situazione di incertezza sfugge la ricca mafia di Cerignola nella Valle dell'Ofanto che si distingue per le rapine e gli assalti tir e si caratterizza per una sostanziale Pax dopo i sanguinosi fatti di sangue degli anni 90, riducendo al minimo le frizioni e le manifestazioni eclatanti. Una giunta nata tra molti condizionamenti, quella emiliano, nell'estate 2015. Dieci assessori, compresi due esterni al massimo, e danni a rappresentanza femminile. Le regole di ingaggio è dettate dalla legge approvata nella precedente legislatura regionale. È dettata dalla necessità di contenere i costi della politica e soprattutto l'indignazione dell'opinione pubblica. Nessuna donna è stata eletta nelle file della maggioranza e per aumentare il numero di donne in giunta e il mio governatore è stato costretto a rivolgersi alle lette del Movimento 5 Stelle che hanno ovviamente respinto al mittente l'invito. Così si è partito in ritardo con le sole Anna Maria Curcuruto e Loredana Capone, in quote rosa, esterne, e una squadra che nell'ottobre ha perso il primo pezzo. Gianni Liviano, assessore al turismo, dimessosi dopo l'accusa di aver favorito un amico con un bando ad hoc. Emiliano non lo ha sostituito non avendo un candidato ideale per gli equilibri territoriali da garantire, Taranto in caso specifico, e ha segnato alla delega la Capone. già gravata dallo sviluppo economico. Nel luglio del 2017 una nuova inchiesta è coinvolta l'assessore ai trasporti Gianni Giannini, una delle figure di punta dell'esecutivo, che si è immediatamente dimesso. Le sue deleghe sono state allora assegnate al vicepresidente della Giunta e assessore al personale protezione civile Antonio Nunziante. Poi le dimissioni dell'assessore all'ambiente Mimmo Santorsola hanno costretto Emiliano un rimpasto con l'ingresso in giunta dei consiglieri Filippo Caracciolo, Ambiente, Michele Mazzarano, sviluppo economico. Con la Capone è rimasta con le sole deleghe per Cultura e Turismo e Alfonso Pisicchio Urbanistica. A dicembre la morte di Salvatore Negro, assessore al welfare, ha determinato l'ingresso al suo posto del cognato Salvatore Ruggeri, esterno, e il conseguente sacrificio della Curcuruto, diventata consigliere del presidente per le deleghe dei lavori pubblici e tutela delle acque, assunta da lui stesso insieme a quella della sanità. Ieri le dimissioni di Caracciolo dopo l'inchiesta nei suoi confronti e le deleghe assegnate a Raffaele Piemontese, titolare del bilancio. Il quadro che emerge è un esecutivo composto da poche persone, costretto a occuparsi di molti comparti, tutti delicati, con un presidente che oltre al coordinamento generale deve gestire direttamente la sanità, lavori pubblici e tutela delle acque. Governare in questo mondo diventa un'impresa non solo faticosa, ma estremamente difficile e il 4 marzo sarà una data importante non solo per gli scenari politici nazionali, ma anche regionali, perché l'ennesimo rimpasto appare più che mai necessario. Se si cerca il consenso sulla paura lo si ottiene in una elezione, ma poi si va a casa. Io ne sono testimone, ho fatto politica basandola sulla paura e ne ho pagato le conseguenze. Ho costruito la mia politica sulla paura delle manette, sul concetto che erano tutti criminali, sulla paura che chi non la pensava come me era un delinquente. Oggi però, avviandomi verso la terza età, mi rendo conto che bisogna anche rispettare le idee degli altri. Sono parole pesanti come Macini di Antonio Di Pietro, ex PM della Procura di Milano ed ex leader dell'Italia dei Valori, pronunciate nel settembre dello scorso anno in un programma di La Sette. Una persona informata sui fatti per rimanere in campo giudiziario, ben consapevole che nella stagione di Mani Pulite di cui è stato il principale protagonista, un avviso di garanzia, strumento in linea teorica di tutela dell'indagato, equivaleva automaticamente a una carriera politica stroncata. Un magistrato entrato in politica come simbolo e paladino della legalità, un'esperienza di fatto finita non dopo una sentenza di condanna, ma dopo un'inchiesta del programma TV Report che ha fatto a pezzi quell'immagine costruita con tenace e lungimiranza. 26 anni dopo l'inizio di quella stagione, la politica continua a essere sempre spaccata in giustizialisti e garantisti, con sfumature ovviamente adattate ai casi vicini o lontani. Le campagne elettorali continuano a essere giocate sull'aggettivo impresentabile, che diventa un marchio d'occa alla ricerca di facili consensi, per etichettare qualunque avversario politico alle prese con inchieste giudiziarie, ma evitando ovviamente di entrare nei contenuti delle inchieste, delle accuse e delle difese e dimenticando la presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Scatta l'inchiesta e si entra automaticamente nella lista e tutto il resto finisce sullo sfondo insieme alla credibilità di una classe dirigente sempre più scadente e lo stato agonizzante del paese né la naturale conseguenza. Una differenza però è facile notarla. Di Pietro ci ha messo un po' di anni per riflettere sul concetto di impresentabili, sui buoni e sui cattivi a prescindere. A Luigi Di Maio, Beppe Grillo e Davide Casaleggio sono bastate invece le prime avvisaglie di inchieste che hanno coinvolto Virginia Raggi, Chiara Appendino, Filippo Nogarin, i sindaci di punta della pattuglia 5 Stelle, per rivedere di corsa il loro rigoroso codice etico e rimodellarlo a uso e consumo interno. Gli impresentabili restano tali ma quelli degli altri. Le piccole e medie imprese foggiane non trovano risposte nell'attuale classe politica che dalla capitanata si muove verso Roma. E' questo il risultato di un report commissionato da Confesercenti e che delinea una situazione di incertezza dopo il voto. Il 65% degli imprenditori intervistati, infatti, pensa che l'esito della consultazione sarà un Parlamento diviso e questo inciderebbe anche sull'economia. Secondo l'associazione di categoria, infatti, il 36% segnala di voler rimandare dopo le elezioni la decisione se procedere o meno con gli investimenti già programmati. La sfiducia nella classe politica si traduce in astensionismo. Ad oggi gli imprenditori che hanno stabilito già di rinunciare al voto sono il 25%, mentre un ulteriore 20% si dice ancora indeciso. Tra le risposte che le imprese attendono dalla politica spicca la questione fiscale e prima di tutto la riduzione del peso delle imposte. Ma si cerca anche più sostegno alla piccola impresa, la semplificazione burocratica, la riduzione del costo del lavoro e un accesso al credito più semplice e meno costoso. Richieste queste ammonisce il presidente provinciale di Confesercenti, Alfonso Ferrara. Avanzate da anni dal mondo della piccola e media impresa italiana, ma fino ad ora mai soddisfatte pienamente. I programmi elettorali non convincono le piccole e medie imprese a meno di 30 giorni dalle elezioni, conclude Ferrara. Due imprenditori su tre bocciano le proposte avanzate finora dalle forze politiche, da cui invece si attendono proposte più concrete. E' continuo rimpallo di responsabilità tra Regione e Comune di Foggia per quel che riguarda l'erogazione del canone di locazione per l'anno 2015. L'assessore regionale alle politiche abitative, Alfonsino Pisicchio, aveva già fatto sapere al Tg Blu che la Regione aveva provveduto a derogare la prima tranche di finanziamenti previsti già dal mese di dicembre. Il Comune, in una nota diffusa ieri, sottolinea come siano ancora in attesa della quota di premialità. L'amministrazione comunale, si legge, precisa che il ritardo nell'assegnazione del contributo alle famiglie foggiane non dipende in alcun modo da responsabilità che riguardano il Comune di Foggia. Nonostante il Comune di Foggia abbia inviato formalmente alla Regione Puglia la rimodulazione della graduatoria dei soggetti beneficiari del contributo il 19 gennaio scorso, ad oggi la Regione non ha ancora provveduto al trasferimento della quota assegnata alla città di Foggia. E il ritardo accumulato dagli stessi uffici del Comune di Foggia nel trasmettere la documentazione ad aver bloccato le procedure relative alla premialità rispondono da Bari, gli assessori alle politiche abitative e al bilancio della Regione Puglia. E comunque nulla vietava ai Comuni interessati di anticipare le risorse con fondi propri e di recuperarli con successive partite di giro da parte della Regione Puglia. E in mattinata arriva la risposta del Sindaco Franco Landella che spiega che la possibilità che il Comune di Foggia potesse anticipare attraverso fondi propri la quota di premialità recuperandola con successive partite di giro da parte della Regione Puglia era poco praticabile per un ente come il nostro interessato da una drammatica procedura di predissesto finanziario e che di conseguenza non è nella condizione di procedere all'anticipazione delle somme necessarie. Il fascino del mare e dell'arma. Visitatori, curiosi e scolaresche, sono accorsi al porto di Manfredonia per visitare la Fregata Europea Multimissione Carabiniere della Marina Militare che nei giorni scorsi è rimasta attraccata nel Golfo in occasione delle celebrazioni di San Lorenzo Majorano, Vescovo e Patrono della città. Una nave polivalente, la quarta in versione antisommergibile, allessita con sistemi d'arma, difesa e scoperta di ultima generazione, all'avanguardia sia nel campo militare che civile. Nave Carabiniere è una fregata multimissione che nasce da un progetto di cooperazione con la Marina Francese che prevede una costruzione di 10 unità navali di questa tipologia. Noi siamo in particolare la quarta Frem, quindi la quarta unità di questa classe e in particolare la terza nella configurazione antisommergibile, quindi specializzata nel contrasto alla minaccia subacquea ed è un tipo di unità che normalmente impieghiamo per le operazioni di pattugliamento e di presenza e sorveglianza nel mar Mediterraneo, nel controllo dei traffici illeciti, delle rotte di comunicazione e nel contrasto anche al terrorismo internazionale. Al momento infatti ci troviamo a effettuare un'operazione di presenza e sorveglianza nel mare Adriatico ed è per questa ragione che siamo qui in sosta a Manfredonia.